Il procedimento di attivizzazione è stato bloccato per mancanza di sperimentazione. Il procedimento sarebbe funzionante, dovrebbe essere un posto anche portabile. L'unico problema è che per vedere se ci sono delle dispersioni di fibre durante il trattamento bisogna mettere in piedi un impianto vero e proprio. Quindi, intanto che non si ha questa certezza che non ci sono dispersioni, abbiamo dato l'autorizzazione per fare l'impianto di prova che ha metterlo in cuore da cosa. Un'idea che ha proposto per avere una roba al telefono con lui era di approfittare della bonifica della Filoni, giuro a Groni, in provincia di Padilla, perché gli hanno molto abbiato a sbattire la zona circoscritta, pensata per fare un prototipo di questi impianti nel montale che fosse un prototipo ridotto e si potesse procedere alla bonifica che è pubblica. e quindi sarebbe una cosa più migliore di segnalare proprio con controlli pubblici totalmente. Però questo è il discorso tra i sistemi di realizzazione. Sì, provo a parlare velocemente perché è un'esperienza abbastanza drammatica per me, a livello del gioco, ed è recente. Io il 26 gennaio di quest'anno mi sono ritrovata nel mio appartamento dove ho subito un lavoro da parte della proprietaria dell'idraulico su una tubatura di scarico che conteneva minuto, non cemento minuto. La presenza di questa tubatura era conosciuta sia da parte della proprietaria che dall'idraulico che avevano fatto altri lavori sullo stesso stabile. e questa tubatura è stata tagliata per un flessibile, a secco, riducendo bovere con tutta la casa ed è stata poi portata via i secchielli con un idraulico e i proprietari che li prendevano in giro perché dicevano che questa era un'operazione che non richiedeva delle misure di sicurezza che non si trattava di un tetto e che quindi comunque lo avevano operato così negli altri appartamenti e poi si stavano fermando in giro. Io al momento non ero molto consapevole, cioè avevo la sensazione che la cosa non fosse a norma ma poi ho provveduto comunque senza maschera, birre, un spagno all'umido, passata a schierapollo, eccetera, tutte le cose, le operazioni che si fanno ordinariamente. E quando poi il giorno dopo mi sono formata attraverso il mio mio ingegnere se avessero operato secondo regola mi sono resa conto che avevo fatto un vero pasticcio. Per cui poi tramite l'ASIL ho avuto una serie di indicazioni, poi ho lasciato la mia casa, ho fatto fare il calcolamento sulla parte di tubo che era rimasta ancora presente nel muro perché a quel momento ho lasciato il cavello aperto, polvere di amianto in questo cavello e in tutta la casa. Quindi ho fatto le analisi sul tubo ed è risultato presente amianto blu che credo sia il peggior tubo per la salute. c'era ancora mia una presente nell'aria, il quale è molto falsa però comunque c'era. Quindi in poco tempo io ho deciso di fare una bonifica una matita specializzata nel mio appartamento che mi consentisse semplicemente di rientrarci per prendere le mie cose e andare via. Non scendo diciamo nell'autobiografia a parlarvi dei costi che ho dovuto sostenere, dello stress, ho dovuto comunque fare tutto in questa situazione di emergenza fino a quale mi venne anche informata puntualmente. Ho presentato una denuncia alla ASL sia quella di via San Vigilio sia quella di via Gola per appunto mettere la corrente di questo accaduto ma quello che rilevo anche in base a quello che ti ho sentito dire e vi ringrazio anche per questa opportunità è che al di là di tutte queste condizioni di rischio che ci possono essere in ambito professionale, in ambito ambientale esiste poi probabilmente una casistica sommessa in ambito domestico che anche nel mio caso solo casualmente è venuta fuori ma che probabilmente è diffusissima in Milano come può diventare anche attuale. E allora mi chiedo in situazioni come la mia quali sono i veri interruttori? Cioè io faccio la denuncia alla ASL ma poi su questa questione non ho alcuna risposta se voglio farmi tra virgolette giustizia devo sostenere una causa devo pagare le spese devo anche aprirmi alla possibilità di non superare la prova del tribunale e anche dal punto di vista clinico io a chi mi rivolgo perché ho sentito dei medici da loro lo stesso medico del lavoro dell'ASM ha detto lei ha fatto quello che avrei fatto io cioè un litro umido senza mascar, senza preconruzione ma anch'io avrei fatto la stessa cosa questa cosa da una parte mi ha tranquillizzato ma dall'altra mi ha fatto anche pensare se fosse l'interruttore giusto con cui parlare tutto questo nella logica del profitto perché la proprietaria del mio appartamento ha deciso di operare in questo mondo semplicemente perché spagnare per evitare i tempi della notifica LASL eccetera allora quali sono gli interlocutori che sistema c'è di controllo di queste situazioni fuori controllo gli operai che hanno operato su questo tubo erano senza mascar hanno portato via il tubo in un secchiello me l'hanno fatto vedere mi ha detto che non c'erano rischi perché se ci fossero stati davvero grandi rischi il costo per lo smalicamento della mianta non sarebbe così basso questo mi ha detto e quindi niente volevo sottoporvi questa insomma darvi questa testimonianza e poi anche sottolineare che in Uspardia c'è credo una legislazione proprio propulgata dalla Regione in questo ambito c'è credo anche una legge regionale che obbliga al censimento cioè i proprietari degli immobili sono obbligati a fare il censimento delle parti in amianto e allora come mai succedono cose come questa tremenda che è capitata a me? grazie per solo raccogliere una cosa esiste in Regione Lombardia c'è forse una delle più belle leggi che c'è sull'amianto questa legge prevede che entro il 2015 tutto l'amianto che c'è in Regione Lombardia dovrebbe essere sbattito naturalmente fatta la legge non ci sono i fondi come al solito per cui la legge c'è ma le cose che succedono altra questione generalmente il pericolo non c'è se uno lo può vedere generalmente le asni diciamo che noi abbiamo potuto fare spesso e in molti conflitti sia con la Regione con l'asni con l'inae generalmente si preferisce siccome non si hanno i mezzi per risolvere il problema è passato ormai quest'idea siccome non posso risolverlo per mancanza di economici allora cos'è che faccio? l'unica questione è ignorarlo far finta di niente e rassicurarlo perché il panico sarà più peggio c'è un modo di ragionarlo eccetera quindi allora si tende a rassicurarlo si tende ad andare a vedere l'amianto a cercare di fare le bonifiche dove si sa quello che ho visto a Sesto San Giovanni quando sulle bonifiche delle aree l'Arba non ha trovato niente tutto che per forza se io non voglio trovare niente vado a fare le bonifiche dove so che non c'è niente e se io prendo le mazzette dei costruttori che devono costruire e che quelli hanno dei tempi di consegna è evidente che io vado a fare lì il carocaggio invece che lì però tornando un attimo a noi siccome esiste una legge che per lo sbagliamento dell'amianto i lavoratori che ci lavorano dovranno avere le punte di mascherine compreso quelle ma questo comunque niente vieta perché purtroppo più che uno fa un esposto alla magistratura un esposto alla magistratura non costa niente perché io faccio un esposto finora anche la magistratura era solida adesso ci sono dopo i fatti delle interni anche a Milano c'è il processo più breve sono una serie di giovani magistrati che sono arrivati da Torino dalla scuola di Guarinello che sono molti sensibili a questo problema però quando io prima dicevo che c'è un sistema che tutela e contro le vittime in questo senso perché io per far valere le mie ragioni perché la costituzione mi dà dei diritti se però io non ho i soldi e la forza per farvi valere i miei diritti non valgono niente valgono solo i diritti di chi può permetterci avvocati che la chiedono loro una cosa di chi è potente ecco questa è una cosa veramente vergognosa perché bisognerete invertire e quando è che riesce a invertire? se i cittadini si organizzano perché se tutti organizzi allora lo fai invalire come un comitato come per esempio tornando alla legge regionale ci sta una legge che dice che ci vuole la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti o ex esposti a neanche questa legge esiste già dal 97 in regione Lombardia non è stata applicata finchè noi due tre anni fa abbiamo fatto manifestazioni alla regione perché la regione diceva noi abbiamo fatto la legge e il nostro gruppo che è finito è l'ASD che deve fare le sorveglianze sanitarie ai lavoratori e che deve fare un registro dove mette il registro degli esposti a neanche l'ASD diceva bene bene ho fatto la legge ma se non mi date i soldi io le fai le visite ho bisogno il gatto che si muove la coda com'è che noi l'abbiamo risolto ma lo dico perché l'abbiamo risolto ad andare una volta l'anno una volta dopo la regione chiedendo noi stiamo qua dovete arrestarci perché noi chiediamo l'applicazione di una legge esiste una legge noi ci sediamo qua noi ci mettiamo qua e noi non solo facciamo adesso tutti i lavoratori delle fabbriche di sesto a parte della nostra comunità che facciamo la sorveglianza sanitaria ma è semplice e in forma anche le buone perché e anche le compagnie che sono state che prestavano essi da più di 10 anni a chi lavorava nella mea perché la legge lo prevede anche per i famigliari quindi il legislatore su certe cose sa benissimo il pericolo perché se no non facevano una legge in regione Lombardia però questa legge c'è in quasi tutte le regioni ma non c'è ancora la legge nazionale ci siamo all'assunto la legge 257 del 92 dice che non puoi commercializzare produrre eccetera ma non ti dice che devi togliere l'ambianco per cui veramente siamo in quelle situazioni che uno dice ultima cosa com'è che si può smantire l'ambianco perché voglio ricordare che alcuni anni fa la regione Lombardia aveva stabilito un milione di euro che però sono una pazzecola a cui toglieva l'ambianco dalle case cioè se uno aveva il tetto, il capagnone naturalmente i soldi erano pochi i primi che si sono iscritti diciamo l'hanno fatto gli altri niente però c'era ramiato da particolare noi per esempio noi abbiamo una sedia a Sesto San Giovanni nel nostro comitato che quando il comune ce l'ha dato c'era la grandissima tettoia c'è stato una grandinata noi l'abbiamo avuta a gennaio a febbraio c'è stata la grandinata nel 98 la grande grandinata del 98 naturalmente c'era l'ambianco era tutto spasso tutto rotto dappertutto noi abbiamo chiamato l'ambianco diciamo il compito della regione abbiamo chiamato la regione e dice noi abbiamo chiamato il comune noi il problema dell'ambianco naturalmente l'ambianco continuava a rimanere lì tutto sfaldato abbiamo fatto l'ambianco i cittadini in che una sera l'abbiamo preso c'era il consiglio comunale in 30 di noi abbiamo raccolto tutto l'ambianco che era perso per strada nel cortile l'abbiamo raccolto in grandi scatoloni tre grandi scatoloni con sospito A pericolo amianto tre di noi con la tutta la mascherina e tutti gli altri dietro abbiamo fatto eruzione il consiglio comunale il signor prodotto era Filippo Penati oggi inquisito nel 98 e naturalmente abbiamo dato un grosso scatolone al sindaco alla giunta uno all'opposizione e uno alla maggioranza e ce ne siamo andati impegnatamente hanno sospeso il consiglio comunale e guarda caso l'ambianco da noi che era lì libero poteva stare perché è stato lì due mesi l'abbiamo portato a noi immediatamente hanno sospeso il consiglio comunale e ha fatto sparire l'ambianco non sappiamo dove l'armi cioè quel peso in due misure la salute dei cittadini come la tua ma tu sei un rappresentante pubblico e dovresti tutelare la salute dei cittadini come la tua come giustamente diceva prima un altro che lui tutela la salute degli altri come se fosse la sua perché così deve essere tanto lui se sei un amministratore pubblico ecco questi sono gli estremi noi però abbiamo imparato una cosa quando c'è qualche presente un caso come il vostro noi a tutti consigliamo la salute dei cittadini come la tua